ciao a tutti ragazzi oggi faccio una sorpresa mia moglie francesca ti è questa è per te grazie wonder woman quello che piace a me il mio super eroe preferito dici lo apriamo adesso lo apriamo cos'è la base a questa è la base e poi la bella faccio una sorpresa si dice leco a un bice leco a un bice e Dannazione di scocche a metri. Scusate. Ecco qua, già la base è pronta. E adesso un super pugno. Dai, vediamo com'è, farla vedere da più vicino. E' anche fatta bene. Wow, tiene da sola. Aspetta, ecco non è caduta. Assomiglia a quella del film. Si, assomiglia a quella del film. Aspetta, ecco. Aspetta, sono delicati i pelli. Basta. Ecco. In teoria dovrebbe essere... No, si toglie il pugno. Eh, Gesù. Ah, qua c'è io, sono più esperto. Faccio questo, aspetta questo. Ok. Ah. E allora. Metti la spada, poi farò l'ascensione più svegliata. Eh, si. La spada però ci vuole... Ci vuole la mano sostituiva. Poi ci sono tante manine qua. Piano piano. Metti... Eccola... Ecco. Con la mano aperta. Qua ci sono tante piccole manine. Ok. Buone per schiaffeggiare i cattivi. I cattivi ho detto. Oh. Ah. Guarda. Allora. Questa. Aspetta. Mi sa che ha rompo tutta. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Non ce la faccio a metter. Ah, poi c'è anche un altro viso, quello dove è più incazzata. Quando la fanno proprio arrabbiare. E' che ci sono i bambini. Niente fatto. Poi c'è la corda. Quella... Mi pare quella elettrica. Non lo so. E poi c'è questo qua. Che dovrebbe essere un'altra fune. Non so che cos'è. Però... Se era vera. Frustavo anche mio marito. Chi? Si, lo voglio bene. Ok. Allora. Un po' complicato perché la mano è duretta. E' complicato perché la mano è duretta. Cioè... Eh? Non è forse questo? Che è più grande? Eh. Ah, anche questo. Già. Fatto. Ok. Ecco. Aspetta. Perfetto. Salutiamo. Ciao a tutti. Da Wonder Woman. Ciao. A presto. Ciao.